Di notte arriva il primo derby della stagione, Cesena-Rimini. Si gioca a metà settimana perché la gara è stata posticipata e il Cesena gioca una delle migliori partite del campionato. Il gol del vantaggio è di Ciaramitaro, splendida l'intuizione del ex Livornese. Il raddoppio dopo una grande combinazione ad opera di Ferreira Pinto. I bianconeri chiudono il primo tempo in vantaggio per la 2-0 ma il Rimini nella ripresa si fa sotto e accorcia le distanze con una splendida rete di floccari. Finisce 2-1. Il Cesena conquista tre vittorie consecutive, va a nove punti e scala la classifica. Grazie a tutti!